Ho scritto una lettera alla direzione riguardo la decisione presa dalla commissione dove spiego che la valutazione medica è stata condizionata da prevedizi. Dovresti firmarla. Hanno fatto bene. Ma che stai dicendo? Davanti alla commissione... Ho fatto gli interessi del mio paziente. Faccio gli interessi del mio paziente. Ho dei doveri clinici. Procurami le cartelle di tutti quelli che moriranno oggi. Tu credi che questa lettera servirà a qualcosa? No. Grazie a tutti.